buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti alla nostra cento undicesima live del podcast di psino buongiorno a tutti e a tutte benvenuti oggi parliamo di un argomento davvero interessante di pop psicologia cioè per ripetere un po il cappello introduttivo che abbiamo visto un attimo fa su instagram non parlo della psicologia ingenua della psicologia popolare un concetto molto importante su cui abbiamo fatto diverse puntate ma mi riferisco all'utilizzo della cultura pop per spiegare la psicologia o per parlare di psicologia è un termine che mi è venuto fuori oddio un termine di cui su cui penso da diversi anni da quando guardo diciamo così il festival di pop filosofia quello a cui partecipa spesso il nostro caro amico riccardo dal ferro lo so so bene che parlare di queste cose in certi ambiti è quasi pericoloso perché perché la gente è convinta che la cultura debba essere una cosa alta una cosa molto alta anche michelle foucault ci diceva che se appiattiamo troppo la cultura per farla capire a tutti necessariamente la dovremmo diluire perché solo alcune persone possono capire davvero quella cultura ma allora che cultura è perché a che cosa serve la cultura ebbene la cultura serve per sopravvivere la cultura sono l'insieme di informazioni che noi ci trasmettiamo per vivere meglio non è un modo per trasmetterci delle informazioni che solo pochi possono comprendere no è proprio il contrario la cultura non serve per per diciamo così erigere delle persone più intelligenti di altre sopra le altre per creare un'elite intellettuale la cultura invece l'insieme di cose che ci tramandiamo per leggere meglio il mondo in cui stiamo vivendo adesso adesso questo significa che la cultura antica è sbagliata no assolutamente no è chiaro che omero i classici dante e quant'altro resteranno inesauribili fonte inesauribile di conoscenza per questo sono classici perché sono fonti inesauribili di conoscenza questo però non ci deve far togliere lo sguardo dal fatto che noi viviamo qui adesso nel 2021 e quindi in quanto abitanti del 2021 ci dobbiamo guardare intorno dobbiamo essere immersi nella nostra storia e nella nostra storia c'è un sacco di cultura pop che riguarda le canzoni che riguarda le serie tv che riguarda internet che riguarda anche cose apparentemente molto leggere e molto stupide e probabilmente sapete che ho iniziato a fare questa riflessione proprio perché ho fatto quel piccolo post su instagram dedicato a celebrity hunted 2 che ho visto l'altro giorno che mi è piaciuto e volevo discuterne con voi mi è piaciuto dal punto di vista psicologico voi non li vedete i commenti brutti perché io ho una specie di sesto senso ve lo devo dire capisco chi è che sta per fare commenti brutti e quindi lo limito nei giorni precedenti e dovete sapere che qualche commento del tipo che cazzata incredibile quella serie tv io ho cambiato subito canale che indicano che non hanno capito niente di quello che io intendo per pop psicologia e zeppo e zeppo il profilo e sì è un po così attenzione ripeto questo non significa che dobbiamo erigere la psicologia popolare o la pop psicologia che è diversa dalla psicologia ingenua e popolare come metro di giudizio della della psicologia però mi sembra più che giusto e anche come possiamo dire utile entrare nella cultura dei nostri tempi ed analizzarla con gli occhi della scienza psicologica ed è quello che ho fatto con celebrity hunted e credo che possa essere molto molto utile e possa insegnare molto di più che andare invece a pescare magari un testo dell'antichità per quanto sia bello per quanto sia affascinante eccoci intanto vedo che ci sono già delle persone in chat ciao ciro buongiorno giovanna buongiorno arianna buongiorno noemi a ok vedi che noi mia highway che adesso io collego melissa buongiorno antonietta e antonietta scrive buongiorno anche su spreaker già messo like seguiamo tutti il consiglio di antonietta mettiamo laiche condividiamo a brava antonietta mi ha fatto venire in mente intanto continuo saluta francesca ciao stefania ciao elecata la collega eccomi anche qui eccoci qua e faccio è con noi sono scusate che sto per sto leggendo delle cose sbagliando vediamo un po ok eccoci qua molto bene allora devo condividere questa live con i ragazzi di telegram del mio canale di telegram che vedo che si sta svuotando lentamente poco poco per volta non è niente rispetto a chi di voi ha un profilo instagram avrà visto che in questi negli ultimi mesi instagram insomma è bello violento come come no porca zozza dai fammi entrare su che registrati su fammi accedere al sing in non c'è il login normale vabbè ci proviamo lo stesso ok ci siamo eh adesso arrivo nel frattempo accomodatevi in questa sala fate un bel respiro profondo e eccoci qua eccoci qua allora buongiorno vincenzo buongiorno federico quindi la il tema di oggi è un tema un po spinoso quindi dal dal punto di vista della 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 psicologia classica però come vi raccontavo precedentemente eh nella nella nostra introduzione il la psicologia ingenua è qualcosa di di interessante da indagare è qualcosa di di utile eh tuttavia diciamo così ha bisogno sempre di dell'altro aspetto perché noi non siamo tanto bravi ad intuire diciamo così gli aspetti scientifici del mondo eh prima ho fatto l'esempio del legno e della e del ferro dove il legno è il ferro eh il legno galleggia nella nell'empiria cioè nel eh nei nostri sensi il ferro galleggia nella teoria se costruiamo una barca ma la stessa cosa possiamo dirlo e questo è l'esempio più bello che ci sia osservando il sole se una persona si mette qui e si mette a osservare il sole il movimento del sole quotidiano non può far altro che decretare che questa palla infuocata gli gira attorno giusto perché vede questa palla infuocata che gli gira attorno e dice ok eh il mattino nasce qui e la sera muore dall'altra parte quindi eh io sono un non so sono un oggetto e intorno a me gira questo oggetto e sappiamo che questa interpretazione eh il sistema e eh diciamo così eh il sistema pre eh tolemaico no sistema tolemaico ehm è stato per millenni eh oggetto di studio e anzi eh credevano fosse esattamente così i primi che hanno iniziato a dire no partendo da Copernico e quant'altro che hanno iniziato a dire ma secondo me sai che secondo me questa storia che questo sole ci sta girando attorno è un'illusione e se fossimo noi a girare intorno a lui ecco come funziona la scienza tu con gli occhi vedi una cosa ti dai una spiegazione immediata il sole che mi gira attorno ma quando raccogli i dati fai delle ipotesi e fai degli esperimenti su quelle ipotesi emerge che siamo noi a girare intorno al sole la stessa cosa funziona per la psicologia tu guardi una persona ti fai delle ipotesi su come funziona però poi quando raccogli i dati fai delle analisi crei degli esperimenti attraverso delle ipotesi scopri che magari quella tua teoria è esattamente il contrario però che cosa succede che il nostro cervello come sapete pigro quindi non ama sbattersi per cui quale teoria tenderà ad abbracciare più facilmente il cervello se mi hai seguito se mi sono spiegato e mi hai seguito forse hai capito quale teoria tende ad abbracciare maggiormente la teoria più semplice la teoria più consona all'architettura cerebrale che è quella ingenua non è quella scientifica non è quella contro intuitiva ma è quella che va verso l'intuito e da qui e rientrano tutti i numerosi bias che abbiamo scoperto negli ultimi decenni e che infestano ormai ogni libro che parla di psicologia ma qual è il nome di telegram dopo dopo alessio ti metto il link buongiorno cristina buongiorno luca eccomi chiedo scusa per le mie assenze devo portare la giustificazione no no tranquillo luca dalla vincenzo dalla psicologia ingenua non conoscevo nulla felice di approfondire questo interessante argomento andiamolo a dire i terrapiattisti dice lego perfetto sai vincenzo la la cosa della psicologia ingenua è un tema super interessante perché rientra è un po psicologico un po filosofico rientra in quella che viene chiamata filosofia della mente cioè studiare come le persone creano una rappresentazione della mente altrui semplicemente da 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 ciò che vedono che ascoltano se ci pensiamo bene tutti quanti noi ce l'abbiamo ed è necessario perché ripetiamo la nostra mente cosa fa il nostro la nostra la nostra testa come avete studiato sicuramente su facci caso vero che l'avete letto facci caso la nostra mente un simulatore che cerca di simulare una realtà con la quale non entra realmente in contatto e attenzione che non riesce davvero a comprendere pienamente muovendosi attraverso delle mappe delle mappe che sono delle ipotesi su come funziona il mondo queste ipotesi però dopo un po di tempo che noi le applichiamo diventano nella nostra testa delle piccole realtà cioè più tempo quelle ipotesi agisci quelle ipotesi con efficacia e più inizia a credere che quelle ipotesi sia la realtà delle cose che accadono perché hai bisogno di capire questa cosa qui leggere la mente dell'altro le sue intenzioni per la sopravvivenza perché se tu entri in un luogo e guati guardi attorno devi immediatamente capire chi potrebbe avere buone intenzioni da chi potrebbe avere invece cattive intenzioni e non è un caso che se tutti quanti noi entriamo in un bar con un eye tracker uno di quegli oggetti che misura dove vanno a finire i nostri occhi scopriremo molto facilmente che i nostri occhi vanno immediatamente a scandagliare l'ambiente alla ricerca di facce ostili andiamo alla ricerca di facce ostili perché perché il nostro sistema evolutivo diciamo così la nostra evoluzione ha fatto sì di farci preferire l'attenzione verso le facce ostili e di conseguenza la nostra evoluzione ci ha anche dotati dell'attenzione diciamo così più selettiva nei confronti di stati interni negativi perché sono quelli che possono predire se una persona prende una mazza e ce la dà sulla testa piuttosto che una persona che scusate invece che una persona che magari ci sorride e ci vuole offrire da bere al bancone del bar ovviamente ovviamente ci sono tanti distinguo insomma potremmo discutere però l'idea di fondo è questa quindi abbiamo tutti quanti una teoria della mente delle intenzioni altrui perché questa ci aiuta per sopravvivere questa teoria della mente tende a fare iperinterpretazioni in negativo cioè tende a vedere cose negative nell'altro ed è per questo che prima durante la nostra chiacchierata introduttiva quando un utente su instagram mi ha detto ti vedo stanco gli ho detto questa è una lettura nel pensiero primo perché è una teoria della mente una teoria ingenua della mente ecco questa è la psicologia ingenua che è molto interessante ma non è la pop psicologia che è la cosa di cui voglio discutere oggi cioè l'analisi del nostro mondo pop che significa musica che significa serie tv che significa romanzi fumetti e quanti a qualsiasi altro prodotto culturale attuale pop cioè conosciuto un pochino e che tipo di psicologia c'è lì dietro quali tipi di insegnamenti possiamo trarre da quella cosa lì e in particolare mi sono concentrato nel video che uscirà tra un poco sul mio nuovo canale di youtube mi sono concentrato su celebrity hunted perché come avete visto nel post che ho messo ieri su instagram ci sono un bel po di cosine da da imparare soprattutto per quanto riguarda la nostra cara intelligenza emotiva andiamo a vedere un po di domande la mappa non è il territorio esattamente angela esattamente così è quella frase lì è è la pura verità anche se c'è qualche espertone di comunicazione in giro dire che non è vero vabbè lasciamo perdere francesca questi minuti sono la mia pausa della preparazione dell'esame di psicologia della percezione è tutto collegato grande francesca assolutamente sì assolutamente sì quindi tu farai anche la gestalt e tutte quelle robe lì molto fighe esattamente angela si va alla ricerca scrive angela delle affermazioni delle nostre ipotesi esattamente noi la serie chi cerca trova esattamente così e questo è da un lato ci serve no l'abbiamo visto nella puntata dedicata alla scaramanzia perché siamo così ottusi perché ci piace credere quelle cose lì perché una volta che noi abbiamo una specie di piccola certezza tipo ok quel tizio lì è arrabbiato possiamo agire coerentemente con questa nostra ipotesi quindi se vediamo un tizio al bancone del bar che magari ci guarda male non lo guardiamo male anche noi ok magari il tizio invece c'ha una diottria non ci vede e guarda male tutti perché in realtà non ci vede e noi ci siamo fatti il film che ci stia guardando male e ci stiamo allontanando da lui quando magari sarebbe la persona più interessante con cui chiacchierare no tranquilli non vi sto invitando ad andare nei bar a parlare con gli sconosciuti che vi guardano male ma vi sto invitando a rivalutare diciamo così la mente dell'altro capiamo ci sono due argomenti super interessanti sia la psicologia ingenua che la pop psicologia che sicuramente sono intrecciati tra di loro perché un regista un autore quando scrive ad esempio non lo so il come si chiama lo storytelling non si chiama storytelling quando scrive lo storyboard quando scrive la sceneggiatura di un film di un'opera e quant'altro non fa altro che basarsi sulla psicologia ingenua che in alcuni casi non è ingenua per niente ci basta leggere ripeto i classici lì dentro c'è tanta roba a partire da omero virgilio eneide odissea che contengono tantissima psicologia super interessante arrivando ai nostri autori moderni che anche se magari fanno un contenuto leggero all'interno di quel contenuto leggero inseriscono le ipotesi psicologiche più comuni che condividiamo tutti e che in un qualche modo dobbiamo prendere in esame soprattutto noi che siamo appassionati di psicologia io spesso mi concentro sui cartoni animati ci sta belli cartoni animati federico scrive genna il mi il nostro sistema evolutivo visto che la scienza va sempre avanti non subisce delle modifiche nel senso col tempo è possibile che sia diventato meno ingenuo assolutamente sì federico assolutamente sì più noi andiamo avanti nel diciamo così nella nostra crescita e questo io poi ragazzi sappiate che questa cosa che vi sto dicendo è osteggiata da un tipo di filosofia un tipo di pensiero potremmo chiamarlo all'adorno archimer no adorno e archimer che per l'appunto vedevano l'aspetto della crescita della scienza come un modo per sottomettere gli esseri umani e la natura e con essa gli esseri umani ecco io invece no io mi dispiace dirlo ma io se proprio mi devo posizionare sono un neopositivista della scuola di francoforte non è bello dirla così c'è in senso che io credo che la scienza sia davvero illuministica illuminante che la conoscenza apra davvero gli occhi che cosa c'entra questo con quello che appena chiesto federico credo che il nostro modo di pensare sia più evoluto rispetto a quello di persone di 200 anni fa significa che pensiamo meglio no però significa che abbiamo degli strumenti di pensiero probabilmente più efficaci e tutta la storia del pensiero e così sapete che prima della filosofia c'erano stati millenni di millenni di prima della filosofia millenni di ignoranza e nonostante l'arrivo della filosofia 3000 anni fa circa nonostante arrivino loro no per prima dire che dobbiamo ragionare in un certo modo e fondano fondino le basi di quello che è il pensiero occidentale ancora ci vorrà del tempo e ci vorrà davvero l'illuminismo per iniziare a dire ragazzi emancipiamoci da le scaramanzie da da certe cose e iniziamo a vedere che cosa ha funzionato per il genere umano fino adesso cioè quindi fare ricerca fare studi fare cose del genere indagare la realtà e non invece fermarci per qualche dogma religioso questo significa che possiamo creare bombe atomiche distruggere piene ovviamente no però significa certamente che la liberazione del pensiero c'è stata ma non è ancora del tutto completa perché continuiamo a fare continuiamo a pensare un sacco di queste cose che non mi voglio perdere questo discorso ma avete capito ecco a me succede tutti i giorni stamattina ci sono stati già due sguardi ostili normalmente sto zitto e muovo la testa per annuire e ciro questo è molto interessante nota quando succede a volte lo sguardo ostile c'è ma a volte lo sguardo ostile non è rivolto a te davvero no non so se vi è mai capitato di sorridere da soli perché vi è tornato in mente qualcosa di piacevole oppure vi è mai capitato di accigliarvi da soli perché avete pensato a qualcosa di triste o di attivante da soli a me capita e quindi può capitare oppure può capitare che non lo so sto andando dal giornalaio sto andando da ciro a comprare psicologia contemporanea oppure a comprare facci caso perché ciro anche facci caso ecco sto andando dal ciro e mi arriva una telefonata dove mi dicono che non lo so che hanno dato che è caduto un albero sulla mia macchina un albero di 25 metri ha distrutto la mia macchina sembra fantascienza ma chi di voi segue psi nell'anni sa che questa cosa è successa davvero mi è caduto un albero gigantesco sulla macchina cinque sei anni quattro anni fa e appena ricevo questa notizia magari sono tutto contento vado a trovare ciro mi vado a comprare facci caso genna è appena caduto un albero di 25 metri sulla tua macchina domani devi partire per le vacanze come mi presento da ciro ciao ciro come stai tutto bene no mi presento un po incazzato poi magari se ciro non lo conosco ancora peggio perché perché non è che vado lì ciao ciro no arrivo adesso devo andare dal giornalaio quello che poi mi guarda male e quindi ecco noi non possiamo sapere che cosa mi gira per la testa mentre vado da ciro prendere facci caso non lo sappiamo è il mio sguardo accigliato potrebbe essere perché sto rispondendo male a ciro o perché mi è caduto un albero di 25 metri sulla macchina e mi girano le scatole sperimento quotidianamente quanto di fronte alla presunta ostilità un sorriso è miracoloso bravissima giovanna ieri ragazzi mentre facevo la passeggiata è successo una cosa avrei voluto filmarla perché era era bella però avrei dovuto filmare un tizio succede che mentre sto facendo un pezzo di passeggiata vedo un ragazzo che da lontano mi fissa ok con la bici che si avvicina piano piano e mi fissa mi fissa mi fissa mi fissa io sto molto attento ragazzi quando faccio la passeggiata perché perché ho paura che qualcuno mi strappi cellulare dalle mani semplice cellulare costa un sacco di soldi e capito non voglio che qualcuno passi con la biciclettina e mi faccia uno scippo del cellulare al volo durante la passeggia sarebbe divertente lo vedreste in diretta lo scippo del cellulare e quindi sto attento vedo questo ragazzo che passa con la biciclettina in una zona dove non si va con la bicicletta e penso ok devo stare un po' attento vedo che mi fissa mi fissa mi fissa mi fissa mi fissa mi fissa proprio mi guardano mi punta mi punta e alla fine gli faccio un sorriso no tra virgolette esattamente come dice giovanna da uno sguardo come per dire che cazzo vuoi che era questo lo guarda che cazzo vuoi no what the fuck da uno sguardo così si è trasformato in una risata lui ha riso e io ho riso e basta poi l'ho visto passare altre due volte la cosa un po' mi ha preoccupato però mi ha sempre sorriso ed è passato di lì si è devono farsi dei giri in bicicletta non era di certo un ladro però esattamente così un sorriso pensa giovanna che se non sbaglio c'è uno studio che dimostra che addirittura un sorriso è talmente potente ok talmente potente si vede che proprio va a scardinare le nostre ipotesi sulla mente dell'altro che fa sbandare le persone indipendentemente se siamo bellissimi o bruttissimi hanno fatto questo studio tipo sui camerieri se non sbaglio che se sorride un cameriere lo fai sbandare leggermente quindi non sorridete alla gente in macchina perché fate sbandare cioè in un sorriso un contatto oculare ha un effetto molto potente su sul sulla situazione luca e dopo tutti questi bei discorsi ci sono ancora politici e personaggi anche con responsabilità che utilizzano gli oroscopi per prendere decisioni dio santo si millenni di storie evolutiva buttatia tra l'altro luca tra l'altro adorno e archimer hanno scritto no solo adorno mi sembra scritto qualcosa sulla proprio sull'astrologia a proposito vedi che per la prima parlato di adorno questa è una sincronicità però che però in termini negativi ovviamente non in termini positivi assolutamente che usano gli oroscopi si affidano a maghi quando non stanno bene mandano i figli dai maghi perché guarda stai bene vai dal mio omeopata mago che fa le carte e ti dà le pozioncine già fa cose fanno cose inenarrabili io ripeto non c'è nulla di male nell'avere delle convinzioni esoteriche nulla di male ragazzi non c'è niente di male però fatevi aiutare persone qualificate e poi in caso andate anche andate anche dal dal vostro esoterista io vi ho raccontato più volte la storia di quella copro tantissimo le tracce di un mio paziente x non vi dico se maschio se femmina vi dico solo che era una persona affermata nella sua professione vi dico solo che era una persona molto piacevole esteticamente e nonostante ciò non riusciva a trovare il partner adatto adatto e un giorno questa persona qui un giorno mi confessa che la spesa più grande che fa tutti i mesi e andare dalla sua cartomante e io a un certo punto dico a questa persona che che a me per quanto gli dico ma tira serena 250 euro 250 sappiate che si è lamentato lamentata non voglio dirvi neanche il sesso di questa persona neanche il genere si è lamentato lamentata della mia parcella al punto tale che un giorno non è per un paio di volte non è venuto in studio io gli ho detto che doveva pagarmi il fatto di non essere venuto in studio almeno una volta non ha voluto pagare e io l'ho mandato via dal mio studio e lui si è arrabbiato moltissimo quando ci siamo risentiti gli ho detto scusa ma tu avevi 250 euro alla settimana per il tuo astrologo e una volta che ti chiedo di saldarmi non era la prima volta che mi dava buca due ore prima di venire in studio di saldarmi una seduta mi fai questa scena mi dispiace ma torna dall'astrologo scusate mi sono sfogato bene mandatemi la fattura e dopo e dopo Giovanna Genna magari ti voleva rimorchiare ci avevi pensato al tipo magari sì magari sì sai Giovanna ci poteva ci poteva stare anche se non lo so non lo so non sai quanti sorrisi funzionano con i giudici immagino 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 beh ragazzi è così anche l'ipotesi che possa esistere una persona parziale o meglio scusate imparziale è un'ipotesi fasulla a partire dai maestri che hanno in mano i nostri figli che non è vero che sono imparziali ok professori idem non è vero che siano imparziali la gente è sempre parziale la gente ha sempre una propria opinione la gente ha sempre un proprio pregiudizio stereotipo ed è per questo che vedete ed è per questo nuovamente che dobbiamo metterci dentro un po di vera psicologia che ci dimostra che siamo così e per questo sappiamo che tutte le le ipotesi che fanno possono essere sporcate da tali pregiudizi da tali bias eccetera eccetera comunque tornando alla nostra esatto l'imparzialità non esiste scrive Giovanna ma tornando alla nostra alla nostra pop alla nostra pop psicologia la sua pop psicologia sicuramente vedendo i contenuti culturali che funzionano nel nostro tempo quindi che sono pop che hanno raggiunto la popolarità non solo possiamo indagare come funzionano questi contenuti ma abbiamo anche un piccolo sguardo per quanto grezzo per quanto poco scientifico un piccolo sguardo anche sulla mente delle persone che ci circondano e io lo so io per anni ragazzi io sono sapete che io sono innamorato della musica nasco come musicista e quindi da musicista per anni io ho odiato il pop l'ho odiato profondamente non tutto ciò che ma quello è pop no 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 meglio ascoltare la canzone la canzone non so jets gypsy jets fatta da quel come da quel autore russo scomparso prematuramente per suicidio per problemi esistenziali dopo aver scritto un trattato di 750 mila pagine sulla musica come esistenza della vita no questa è una presa in giro un po di averti presente aldo giovanni e giacomo no quando c'è giacomo che fa l'intellettuale esattamente così esattamente così quando siamo poi giovani e siamo giovani vogliamo differenziarci cerchiamo la nostra identità pertanto vaffanculo pop no il pop non lo voglio se tutti seguono il pop io seguo qualcos'altro e quindi il pop viene devastato in questo modo non solo poi viene devastato da tutta la critica intellettuale perché l'intellettuale non si può occupare di pop perché l'intellettuale si deve occupare di archeologia della mente deve occuparsi di omero dell'iliade dei saggi ripeto no ripetiamo i classici sono meravigliosi sicuramente è vero che nelle neide c'è tutto no è vero che tu apri le neide lo leggi c'è tutto c'è il thriller c'è il giallo c'è la psicologia c'è la filosofia c'è la morale ci sono aspetti religiosi c'è il cristianesimo c'è l'ateismo c'è in parte c'è l'intelligenza artificiale dentro le neide eccetera eccetera tuttavia viviamo in questo tempo ed è bene analizzare i contenuti che emergono in questo tempo intanto per capire meglio noi stessi per capire meglio come funziona il mondo che ci circonda e poi per imparare un po di sana e buona psicologia insomma io la vedo la vedo in questo modo e spero nei prossimi tempi di continuare a fare un po di questi contenuti ultimamente ho fatto un contenuto su lucifer un contenuto su iron man ho fatto contenuto su iron man perché su youtube vanno molto forte queste cose ho detto proviamo a fare qualche piccolo contenuto e dove abbiamo parlato di cose molto interessanti anche anche molto molto interessanti e già nessuno imparziale scrive è lecata e luca scrive oggettivamente l'oggettività non esiste anche questo anche questo è vero un attimo di di pausa devo mettere delle musichette tra il coso devo aggiungere delle musichette ci ho provato una volta però non viene benissimo tipo qualcosa ci sono solo c'è hanno questa la campanellina a posso mettere delle risate finte no tipo a questo proprio il popolo impazzito ma è molto interessante ciao santino e quindi così insomma ragazzi il tema di oggi è semplicemente per lanciare questa idea di pop psicologia cioè quindi analizzare la cultura pop dal punto di vista psicologico in modo serio in modo a volte anche ingenuo ed è ovvio che deve debba essere un'operazione di retro ingegneria sì retro ingegneria perché andiamo a pescare dalla psicologia ingenua cioè le teorie della mente della psicologia ingenua che potremmo farci osservando un contenuto culturale moderno facciamo retro ingegneria per capire quali sono i meccanismi psicologici che ci possono essere alla base anche se sono completamente oscuri a chi ha creato quel contenuto belle le risate alla fine di serie tv come mai quando sono scazzato scrive san santino arriva saluta e fa una domanda secca ciao mai come mai quando sono scazzato in generale e la mia morose presente questa cosa si rigira anche su di lei e viene mantenuta come se da un lato mi piacesse sta cosa che sta cosa che dici santino per quanto sia assolutamente otti è molto interessante è molto interessante riconosco che sbaglio e che peggioro le cose ma questa rabbia scazzata mi fa mantenere questo gioco di piacere misto se caro santino è esattamente così noi le nostre emozioni perché sono in pausa devo scappare ho capito senti qui metti mi piace condividi altrimenti ma ti rispondo subito santino è così le nostre emozioni sono sociali le emozioni ci servono per comunicare agli altri qualcosa e per comunicare a noi stessi qualcos'altro quindi per comunicare il nostro stato cambiamento di stato interno che si vede anche all'esterno per comunicare agli altri il cambiamento del nostro stato interno quindi in realtà noi con le altre persone iniziamo ad auto alimentare questa cosa vi faccio un esempio personale che vi ho detto tante volte ma che è esattamente così voi sapete che io sono una persona se volete farmi incazzare tantissimo dovete farmi guidare l'auto ma questa rabbia trova diciamo così lascia il tempo che trova se sono da solo mi arrabbio di certo ma fino a un certo punto se invece sono in macchina con qualcun altro che in grado di tra virgolette recepire la mia rabbia e magari fomentarla come mia moglie ok ecco che la mia rabbia è molto più intensa primo perché ho una persona con la quale scaricare la rabbia secondo una risposta magari rabbiosa anche da parte sua e questo fa sì che la rabbia aumenti ancora di più stessa cosa vale per la tristezza eccetera eccetera ed è per questo che quando siamo scazzati caro santino non dovremmo la rabbia è una di quelle emozioni che si alimenta dalle parole se sei una persona esplosiva come me infiammabile come descrivo all'interno di emotional freedom pubblicità emotional freedom nel mio corso per imparare a gestire le emozioni ecco come descrivo dentro emotional freedom una delle tecniche più stupide banali ma che funziona di brutto per la rabbia esplosiva è il silenzio silenzio che deve durare un tot di minuti cioè quindi quando succede silenzio per almeno 10 15 20 minuti e poi torni a parlare cioè proprio guardi l'orologio guardi tu amorosa e gli dici guarda ho sentito quel ragazzo un po strano che dice di fare così devo stare zitto per 20 minuti fammi stare zitto stai zitto per 20 minuti e ti assicuro che il tuo amore cambierà drasticamente quindi silenzio luca buongiorno genna passo per un like ed un quesito esistenziale vai luca quesito esistenziale vediamo se ci riusciamo quando in psicanalisi si parla di verità si parla della verità singolarissima del desiderio aiuto aiuto cognitivismo comportamentismo scientismo non se ne occupano è già che in mezzo scientismo luca ti manderei via calci rammenta rammenta rammentano il funzionamento della macchina mano no 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 sono un sacco di cazzate una sopra l'altra caro luca mi dispiace questa è proprio la difesa la difesa di un soggettivismo storicista psicanalitico di un altro tempo che io proprio non sopporto che io proprio non sopporto l'idea che l'idea che perché si riesce a fare un'analisi più approfondita esistenziale ok significa che tale analisi sia più corretta di altre analisi che non sono di origine esistenziale o esistenzialista come nel tuo caso intanto già che tu mi metti cognitivismo comportamentismo come se fossero cose diverse e me lo metti sullo scientismo significa che non so dove tu abbia preso questa frase ma chi l'ha scritta non ha capito niente della psicologia non ha capito che che ovviamente ovviamente la psicologia come tutte le scienze fa i conti con la con l'aspetto oggettivo e soggettivo della realtà che abbiamo intorno abbiamo una realtà oggettiva chiamiamola così intorno a noi abbiamo un modo di interpretare questa realtà soggettiva che tra l'altro ha un effetto sulla realtà oggettiva quello che tu stai parlando del desiderio ovviamente mi sembra di rammendare da ciò che scrivi anche da come lo scrivi che siano un po le riflessioni lacaniane e quindi di di come nasce il il desiderio proprio che è proprio la distanza tra l'incapacità di soggettivizzare l'oggettività della realtà che ci circonda ma tutte queste parole sono tante seghe mentali ecco come la penso io per quanto siano belle affascinanti e ci possano far discutere di filosofia quanto vogliamo ma io sono una persona molto pragmatica e ti dico da pragmatico non da scientismo scientismo sarebbe il cercare di spiegare tutto attraverso la scienza come se fosse una religione lo scientismo è una leggenda per ignorare o meglio scusate lo scientismo è il modo ignorante di leggere la scienza cosa significa lo scientismo ce l'ha solo una persona non di scienza per una persona di scienza sa bene che non sa tutto che la sua una ricerca continua che la sua ricerca continua va costantemente confutata è proprio il contrario di quello che si pensa essere diciamo così di quello che potrebbe essere uno scientismo è più simile alla religione a credere che ciò che sto dicendo io è vero perché ciò che sto dicendo io è vero non perché ho delle prove o delle ipotesi o degli studi è vero perché è più vero di quello che dici tu punto è questo è questo non c'entra con la domanda che hai fatto cioè in altre parole può la psicologia aspirare a trovare un senso alla vita la risposta è no lo scopo della psicologia non è trovare un senso alla vita la psicologia quanto in quanto parte della la maggior parte della psicologia è una scienza potremmo potremmo dire in parte descrittiva che cerca di descrivere come la vita così come tutta la scienza è il senso è solo una derivazione che può portarci lontani dalla scienza vera e propria cosa significa ve la faccio molto semplice questa cosa qui immaginiamo di vedere il sole che scalda una superficie e diciamo il sole scalda la superficie di conseguenza la superficie diventa più calda no meglio scusate no mettiamo il sole scalda scalda l'acqua del mare di conseguenza l'acqua del mare evapora è vero è vero lo sappiamo bene c'è questo meccanismo però quando lo descriviamo senza conoscere i passaggi di stato quando lo scriviamo dovremmo dire il sole colpisce l'acqua l'acqua aumenta di temperatura l'acqua evapora cioè non dovremmo collegare queste cose a meno che non si faccia un esperimento come poi abbiamo fatto ovviamente per cercare di capire questo meccanismo ok cioè quindi per cercare di capire questo meccanismo quando noi lo colleghiamo insieme per cercare un senso un perché il sole perché il sole dannato sole scaldi l'acqua quando cerchiamo un senso entriamo in un mondo di domande indecidibili cioè domande alle quali è difficilissimo dare una risposta perché probabilmente come ha detto il filosofo vasco un senso non ce l'ha come potremmo dire così la risposta di senso per quanto sia essenziale faccia bene sia importantissima invito tutti quanti a leggere sartre lacan e anche victor frankl anzi in particolare quest'ultimo può essere molto pericolosa ecco no io ci tengo sempre ad avanzare in questo modo qui perché proprio come formulata è proprio un una cozzaglia di minchiate ecco scusate la terminologia a perdonami genna da dubbio nel dubbio ascolto te e recalcati da lì nasce un po di confusione immagino immagino recalcati è molto bravo fatti vedi che ho colto immediatamente il riferimento sartriano e lacaniano recalcati è molto bravo ma per me recalcati resta un filosofo che fa della filosofia poi fa anche clinica è famoso come psicologo eccetera eccetera sarebbe da vedere sarebbe da vedere perché nuovamente quando io faccio psicoterapia che io sia davvero uno psicoterapeuta o meno ok quando io faccio psicoterapia devo avere dei risultati devo aiutare la gente a stare meglio non devo aiutare la gente a trovare un senso alla loro vita e questo è uno dice no ma se non mi dai un senso alla vita io no attenzione magari c'è anche quello però quello non cura io ti posso dare tutto il senso della vita che voglio ma se c'è gli attacchi di panico continueranno a rivenirti gli attacchi di panico se non blocco i meccanismi scorretti che conducono all'attacco di panico e non ti aiuto a sbloccarli a modificare il tuo modo di comportarti in certi contesti ha voglia ai significati che ti posso dare il significato ti rassicura il significato era sicuro guarda ho capito ho capito cazzo è così ho capito ecco perché ecco perché mi vengono gli attacchi di panico perché in realtà quando ero bambino non ho soggettivizzato l'oggettivazione del nome del padre che mi è stato imposto e attenzione sto bene sto bene 24 ore 24 ore dopo torno nuovamente a farmi tutte le seghe mentali di prima e ragazzi io la vedo esattamente così e il paradigma cognitivo comportamentale costruttivista paradigma di terza generazione paradigma basato appunto sulla disidentificazione paradigma ipnotico ipnotico basato sulle risorse dell'inconscio paradigma basato sui bisogni basato su la volontà di crescita basato su quella tutte cose che paradigma sulla terapia brevi basate sulla cercare la tentata soluzione o sul cercare su cercare in le migliori aspettative eccetera tutti questi paradigmi che funzionano nella psicoterapia e che tutti gli psicoterapeuti utilizzano non vanno alla ricerca di senso non vanno alla ricerca di senso perché ripetiamo come ha detto il grande il grande il grande vasco voglio trovare un senso a questa vita anche se questa vita un senso non ce l'ha e nel momento in cui impariamo ad accogliere il fatto che il nostro ricerca di senso modo per sentirci meglio per sentirci meglio in un mondo che non possiamo davvero conoscere questo il problema della del senso stiamo meglio stiamo molto meglio e possiamo ricercare un senso nel momento in cui possiamo accogliere che questa vita non un senso possiamo imparare a ricercare i sensi della vita che sono tanti che sono molti e che a volte sono illusori sono pericolosi i sensi della vita mettiamola così ecco adesso tutti i miei colleghi un po più psicoanalitici ci resteranno male che io dica queste cose ma io la vedo esattamente così cambio discorso un attimo pardon sto seguendo la serie l'occhio visto solo la prima non mi spoilerare ciro visto solo la prima puntata noto una svolta verso l'umanizzazione del personaggio cattivo ma partita con joker ora questa si nota con il dio dell'inganno non dico altro per non spoiler bravo psicologicamente tu credi che sia giusto questo atteggiamento del cinema di oggi il giustificare il male no sono d'accordo bravo bravo ciro una bella questa è una bella ipotesi e c'entra con la pop psicologia bravo ciro bravissimo no io credo intanto un ottimo spunto ci faccio una bella riflessione anche rick du ferro ha fatto una bella riflessione su questo tema tempo fa dove ci raccontava appunto questo aspetto qua la banalizzazione del male no secondo me no giustificare il male è pericoloso perché purtroppo signori e signore il male esiste e qualche volta il male non è determinato dalla sofferenza non sempre il male è determinato dalla sofferenza giustificare il male è inutile semmai possiamo spiegare il male no come nella teoria della finestra rotta non lo sapete teoria sociologica che ci dice che se in un quartiere c'è una finestra rotta è più probabile che altre persone rompano altre finestre cioè se c'è un po di degrado è più facile che ci sia ulteriore degrado e quindi possiamo spiegare diciamo così un po di male tra virgolette attraverso un principio imitativo psicologico ma invece dire che non so che giocere è cattivo perché ha avuto un'infanzia di cacca o che appunto l'occhi ha avuto un cattivo rapporto con suo fratello thor e odino e è un giustificazionismo pericoloso perché fa sì che tutte le persone possano essere giustificate anche per azioni schifose vi ripeto una cosa essere stronzi e bastardi un'altra cosa è avere un problema psicologico avere un problema psicologico può condurmi essere stronzo e bastardo si potrebbe condurmici ma non mi ci non mi giustifica non mi giustifica capite certo adesso potremmo entrare nella dinamica della capacità di intendere di volere quando si commettono dei crimini efferati però però non giustifica il comportamento per questo dico per questo odio la storia del narcisismo con tutti gli uomini narcisisti no quello è un pezzo di merda e il narcisista una persona che ha un problema di personalità grave soffre magari lo conduce a comportarsi come un pezzo di merda ma non tutti i pezzi di merda sono narcisisti e non tutti i narcisisti sono pezzi di merda scusate il francesismo vero il silenzio aiuta con le ragazze spesso la migliore cosa è tacere quando ti aggrediscono e poi dopo qualche giorno cercare di capire cosa sia successo mi piace luca anche se ci vedo un po di sessismo che riflessioni brillanti che fai oggi grazie grazie giovanna aiuto ma mi sono perso delle domande vero no del dubbio ok è vero senza aiuto con le ragazze si è molto interessante terminiamo la nostra chiacchierata se non avete altre domande con la riflessione di ciro che mi piace molto perché effettivamente effettivamente è così c'è c'è bisogno di spiegazione allora noi torniamo a l'esistenzialismo alla ricerca di senso molto bello noi viviamo in un che ha sollevato luca noi viviamo in un mondo che non possiamo comprendere davvero perché è pieno di scatole nere ed è sempre stato così non è che oggi con la tecnologia ci sono ci sono più scatole nere che 30.000 anni fa non è vero immaginate di essere un uomo di 30.000 anni fa che doveva spiegarsi le maree e i cambiamenti climatici e la pioggia il vento i fulmini il fuoco il fuoco già lo usavano due milioni di anni fa senza spiegarselo e lo usavano facendo dei danni e le spiegazioni erano divine erano magiche doveva spiegarsi cioè un uomo dell'antichità ragazzi miei doveva innanzitutto essere super attento agli stimoli che gli stavano attorno col cacchio che oggi siamo 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 invasi siamo invasi cioè quindi doveva stare molto più attento dove stare molto 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 più attento perché se mangiava la cosa sbagliata schiattava se prendeva il sentiero sbagliato sbagliava eccetera 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 insomma è davvero siamo abbiamo a che fare con la queste scatole nere che facciamo fatica a interpretare e più noi facciamo fatica a dare senso alle cose più il nostro cervello corre all'impazzata e soffre pertanto adora avere delle spiegazioni anche se raffazzonate come ad esempio cavolo l'altro l'altro esame è andato bene ho preso 30 euro vestito con la maglia rossa ma sai che ti dico io al prossimo esame mi rimetto la maglia rossa capiamo è chiaro che questo è un modo per dare un senso a qualcosa che non si può spiegare per aumentare la è un pensiero pseudo scientifico è un modo per aumentare la probabilità facciamo l'esempio di essere faccio io commento un po sessista ma divertente immaginiamo che io sono una ragazza dico ok metto la maglia rossa e poi vado a fare la primo esame con un professore maschio il secondo esame lo faccio con una professoressa femmina e questa volta mi boccia e penso e poi magari a casa penso cazzo ma forse ho preso un bel voto perché quella maglietta lì faceva vedere il seno ok adesso scusate ma ci siamo capiti cioè la giustificazione è un pensiero proto scientifico la scaramanzia il cercare di dare un senso anche quando le cose non hanno un senso poi però se vogliamo davvero emanciparci crescere maturare dobbiamo poi fare delle ricerche e cercare di dare un senso diverso essere aperti a nuovi sensi ma soprattutto a una spiegazione che abbia una base contro intuitiva che vada completamente contro ciò che noi pensavamo precedentemente questo è quello che dici che dico anche lavorando con i ragazzi disabili dice angela dove i genitori molto spesso giustificano alcuni atteggiamenti senza correggerli sulla base di lui è così e cosa è beh certo certamente angela anche lì è un bel è un bel problema cerco la sintesi dice luca due fratelli con padre delinquente prendono due strade diverse uno segue le orme del padre e l'altro fa l'esatto opposto e alla domanda di perché sono diventati così entrambi hanno risposto con un padre così non potevo fare altro sta a noi reagire bellissima luca bravo luca bravissimo bella 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 questo applauso è per luca e anche per ciro e anche per ciro per tutti quanti voi ragazzi che siete qui stamattina siamo un pochino mi sembra da vedere dalla quantità delle domande ma come vi raccontavo è molto probabile che le prossime live le faremo di venerdì pomeriggio devo iniziare a fare delle sperimentazioni e che ultimamente di venerdì pomeriggio mi stanno mettendo un botto di di robe da fare però venerdì pomeriggio sono sicuro che saremo molti molti di più perché sapete che il podcast ha da crescere ancora ha da crescere ancora un pochettino quindi ragazzi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia esattamente per 51 minuti e 44 in mezzo a questi deliri di pop psicologia vi ringrazio soprattutto ringrazio ciro ringrazio tutte le persone che hanno contribuito con degli ottimi con gli ottimi spunti lucca stefania giovanna insomma tutte le persone che hanno santino elecata la mia collega insomma grazie a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo domenica anteprima della puntata di non mi ricordo di che cosa parliamo di che cosa parliamo vi do l'anteprima come al solito della puntata che sta per uscire di che cosa parliamo non mi ricordo ah sì che stupido è vero parliamo di pazienza ragazzi quindi parliamo di pazienza ok quindi vi aspetto domenica alle 18 per parlare di pazienza grazie per la pubblicità ma davvero ho il tuo libro quindi tutti da ciro punzo ad acquistare facci caso ragazzi quindi tutti quanti da ciro punzo edicola da ciro punzo a comprare facci caso buona giornata a tutti ragazzi ciao grazie grazie